Dopo la sconfitta di Arzachena, Latte Dolce riprende i suoi allenamenti, l'analisi della gara affidata a Capitano Cocco. Abbiamo disputato una buona gara, su un campo difficile, il primo tempo ha diruviato tutta la partita, era un po' pesante, noi fisicamente paghiamo un po' rispetto a una squadra come Arzachena, però ce l'abbiamo giocata alla pari, siamo contenti e purtroppo anche un pizzico di esperienza, un pizzico di fortuna ci può essere mancata. Bisogna crederci perché ci possiamo tranquillamente salvare, l'abbiamo dimostrato a Ostia facendo una grossa partita, con l'anusea abbiamo vinto, domenica stesso ci poteva stare il pari e niente, dunque dobbiamo solo crederci e credere nelle nostre potenzialità.